sono la professoressa antonia palladino docente di italiano e storia presso la scuola media medeufulco di tortora in provincia di cosenza in questa giornata in cui la memoria si fa ponte formativo ed educativo per le nuove generazioni e a loro che dedico il mio pensiero condividendo con voi una riflessione del pedagogista antonio faeti tratto del libro propostomi da un alunno nei nostri momenti di confronto su letture che ci hanno colpito il libro è quando hitler rubò il coniglio rosa ha un inizio bello e triste questo libro così pieno di fatti di storie di vicende e fa nascere subito una domanda c'è un rapporto tra i bambini e i dittatori sì c'è naturalmente ci sono stati tanti dittatori nella storia recente meno recente dell'umanità e tutti hanno lentamente rubato l'infanzia a milioni di bambini quando la polizia nazista confisca cioè ruba tutti i beni della famiglia di cui racconta la storia in questo libro i due fratelli anna e max sentono che anche il loro amato giocatto il loro coligno rosa è stato portato via con la forza è proprio come se il dittatore strappasse via con le mani le cose più segrete e più amate i sogni le speranze le abitudini dolci e care le piccole gioie di ogni giornata l'orrore di una dittatura come quella nazista resterà per sempre nelle visioni di quei corpi scheletrici con quella specie di pigiama a righe che dondolano come se fossero quasi addormentati perché non possono reggersi in piedi a causa della fame dei patimenti delle malattie però c'è un altro orrore forse perfino più difficile da raccontare da far capire perché un orrore che si scioglie quasi nell'atmosfera va dappertutto si coglie sottilmente in ogni situazione i dittatori non cambiano mai però sono diversi i loro metodi sono vari e nuovi gli strumenti di cui si servono hitler entrò rapidamente anche nei sogni dei bambini e li trasformò in incubi ci sono vari dittatori anche adesso nel nostro mondo di loro si parla poco e quasi mai si fa vedere com'era e com'è la vita vera di ogni giorno nei paesi che vivono sotto l'oppressione di un tiranno anna la bambiena ebrea che fugge dalla germania ancora prima che l'uomo con i baffetti prende il potere arriva fino a supplicare in una tormentata preghiera che gli incubi di suo padre tremendi e ripetuti incubi notturni che lo fanno urlare di paura diventano suoi vuole portargli via perché soffre troppo a vederlo sveglio e sconvolto dal terrore il furto del coniglio rosa è simbolico naturalmente ann e max scherzano perfino su questo modo di rubare il bello di essere bambini però se pensiamo ai milioni di bambini ebrei rinchiusi da hitler nei lager con i loro genitori sappiamo che cosa vuol dire in realtà rubare un coniglio rosa che cosa si nasconde sotto questo furto simbolico è stata rubata l'infanzia milioni di bambini sono stati privati del loro diritto di essere bambini quelli che si sono salvati hanno portato con sé per sempre il peso di questo furto incredibile a cui non si può rimediare tutti i furti di tutti i furti orrendi e biechi questo è forse il più infame chi ruba sogni e conigli chi sottrae liete corse e sogni festosi a terribili baffetti di un tiranno mostruoso e dunque mi rivolgo a tutti i ragazzi alle giovani generazioni che la memoria sia un atto di coraggio contro chi vuole dimostrare e dimenticare che la memoria non serve a nulla che la memoria sia l'ancora sulla quale costruire nuovi ricordi lontani dal dolore dalla disperazione che le vostre parole e i vostri occhi dei ragazzi non siano mai più protagonisti di alcuna crudeltà ma solo di amore che il sacrificio di molti sia atto di salvezza per tutti voi che siete il nostro futuro